Anche quest'anno non è mancato l'appuntamento serale per i neolaureati dei corsi di informatica in occasione della sessione di laurea del mese di luglio. Dopo aver discusso la tesi nella nuova sede didattica di informatica nel centro storico di Camerino, alla presenza di numerosi amici, compagni di studi e parenti, i 13 candidati si sono spostati all'esterno della struttura dove il presidente della commissione Renato De Leone, vice direttore della scuola di scienze e tecnologie, li ha proclamati laureati, comunicando loro la votazione conseguita e congratulandosi con ciascuno. La serata si è conclusa con una cena conviviale.